Bismillahirrahmanirrahim Quello che ne esce, quello che scende dal cielo è quello che vi accende. Egli è con voi, ovunque voi siate, Allah osserva ciò che fate. È testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico senza associato, è testimonio che il nostro profeta Muhammad, il suo servitore e messaggero, baci e predizione di Allah su di lui, sulla sua famiglia, sui suoi compagni e su tutti quelli che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando in merito. Esistono due tipi di protezione divina, protezione di sorveglianza e protezione di sopporto. Il primo significa che Allah, gloria a lui, è oniscente di tutte le sue creature. Di questo Allah l'Unipotente disse, egli possiede le chiavi dell'invisibile, che solo lui conosce e conosce quello che c'è nella terra e nei mari. Non cade una foglia senza che egli non ne abbia conoscenza. Non c'è seme nelle tenebre della terra o cosa alcuna verde o secca che non siano citate nel libro chiarissimo. Allah disse anche, non vedi che Allah conosce quello che è nei cieli e sulla terra? Non c'è conciliabolo a tre in cui egli non sia il quarto, né a cinque in cui non sia il sesto. Siano in più o in meno, egli e con loro ovunque si trovino. Poi nel giorno della ristruzione li porrà di fronte a quello che avranno fatto. In verità Allah conosce ogni cosa. Allah disse anche nel libro corano, non conoscerebbe ciò che egli stesso ha cariato quando egli è il sottile, il bene informato? La seconda protezione è quella di supporto, successo, conservazione, assistenza e cura. Allah lo dedica ai suoi messaggeri, profeti, aliati e più servitori. Il nobile corano allude a questa protezione in vari luoghi, incluso al discorso che Allah, gloria a lui, rivolge ai suoi due nobili profeti. In questo caso Mosè e Arone, che la bacia di Allah sia su di loro, dicendo, va con tuo fratello con i seni miei e non trascurate di ricordarmi andati da Faraone e in verità si è ribellato. Parlate lì con dolcezza, forse ricorderà o temerà Allah. Dessero, oh Signore nostro, temiamo che si scali contro di noi e che accresca la ribellione. Rispose, non temete, io sono con voi tutto, odo e vedo. Fu questa protezione di cui parlò Mosè quando il suo popolo credeva che il Faraone e i suoi soldati li avessero raggiunti e che non avevano via d'uscita dalla morsa del mare. Il mare era davanti a loro e il Faraone e i suoi soldati erano dietro di loro. I compagni di Mosè gridarono quando le due schiere si avvistarono e i compagni di Mosè dissero, saremo raggiunti. Mosè, che la bacia di Allah sia su di lui, rispose rassicurandosi della protezione di Allah, del sostegno e dell'aiuto del suo Signore. Disse Mosè, Gemai, il mio Signore è con me e mi guiderai, oppure guiderà. Questa è la protezione di Allah che ha concesso al suo profeta bacio e prevenzione di Allah su di lui e al suo compagno Abu Bakr al-Siddiq che Allah sia contento di lui durante la migrazione. Abu Bakr dice, ero con il profeta bacio e prevenzione di Allah su di lui nella grotta. Vidi i piedi dei mescredenti, dissi, o messaggero di Allah, se uno di loro avesse visto sotto i suoi piedi, ci avrebbe visti. E il profeta bacio e prevenzione di Allah su di lui mi ha risposto, o Abu Bakr, cosa ne pensi di due dei quali Allah e il terzo? A questo proposito Allah è il vero, gloria a lui, dice, se voi non lo aiutate. Allah lo ha già soccorso il giorno in cui i mescredenti l'avevano bandito, lui il secondo di lui, dei due, quando erano nella caverna e diceva al suo compagno, non ti affliggere, Allah è con noi. Poi Allah fece scendere su di lui la sua pace, lo sostenne con trubbe che voi non vedeste, e rese infima la parola dei mescredenti, mentre la parola di Allah è la più alta, Allah è eccelso saggio. Poiché è grande che il servitore sia sotto la protezione di Allah, la gloria sia di lui a lui, quest'ultimo deve essere disinteressato a chiunque sia con lui e a chiunque contro di lui. Per la protezione di Allah al servitore deve entrare attraverso le porte che conducono ad esso. La prima porta è concretizzare la fede in Allah. Gloria a lui, gloria a lui dice, sicuramente Allah è con i credenti. I requisiti della fede sono, secondo quanto afferma il profeta Muhammad, base e prevenzione di Allah su di lui, credere in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi messaggeri, nel destino, per quanto sia piacevole o spiacevole. Concretizzazione della fede richiede che si manifesti nella condotta dell'uomo e nel suo comportamento con la gente. Il nostro profeta Muhammad dice, Si dice che il servo di Allah con crezi la pietà e la fede perfetta. Allah gloria a lui dice, in verità Allah è con coloro che lo temono e con coloro che fanno il bene. Allah dice anche nel Corano, sappi che Allah è con i timorati e sicuramente Allah è con i benefattori. La pietà è fare tutto ciò che piace ad Allah, gloria a lui, e astenersi da tutto ciò che lo dispiace. E quindi la somma di tutto ciò che è buono. In diversi versi del Corano, Allah, gloria a lui, ha mostrato il significato di vita. La carità non consiste nel volgere i volti verso l'Occidente, ma nel credere in Allah e nell'ultimo giorno, negli angeli, nel libro e nei profeti e nel dare dei propri beni per amore suo. Ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti, diserdenti, ai mendicanti e per liberare gli schiafi, assolvere l'orazione e bagare la decima. Coloro che mantengono fede agli beni presi, coloro che sono pazienti nelle avversità e nelle restrezze. E nella guerra, ecco coloro che sono i feritieri, ecco i tumorati. Il nostro profeta Muhammad dice non invidiare, non fare offerte, non indulgere in animosità, non voltare le spalle, evitare che uno di voi acquisti il commercio già acquistato dal suo fratello, siate come fratelli o servi di Allah. Il musulmano è il fratello del suo omologo. Non deve fargli del male e né disprezzarlo, la bietà è qui, indicò tre volte il petto. È evitato anche a un musulmano attaccare il sangue, la proprietà e l'onore di suo fratello. La verità della fede perfetta si trova nel hadith del profeta, bacio e prevenzione di Allah su di lui, è il fatto che adori Allah come se lo vedessi, se non lo vedi, lui ti vede. Lì il servo concretizza l'ambia osservazione delle ordini di Allah, gloria a lui, è consapevole che il suo Signore non lo lascia né nascosto, né in solennità, né in movimento, né in statico. Allah, gloria a lui, dice, non sai che Allah vede tutto? Tra le porte che portano alla protezione di Allah c'è la pazienza, Allah, gloria a lui, dice, è vero Allah e con coloro che brisevarono, coloro che quando li coli una disgrazia dicono, siamo di Allah e a lui ritorniamo. Quelli che saranno benedetti dal loro Signore e saranno ben guidati. Allah dice anche, sopporta con pazienza il decreto del tuo Signore, poiché in verità sei sotto i nostri occhi, glorifica e loda il tuo Signore quando ti alzi. E il profeta, bacio e prevenzione di lui, dice, e sappi che sopportare ciò che è spiacevole per te contiene un immenso bene. La pazienza e la resistenza alle sfortune consistono nel limitare l'anima dalla disperazione, il linguaggio del lamento e l'arte dell'orrore. Si ottengono sforzandosi di abituare l'anima e la grande benedizione. Il profeta dice, chiunque si sforza di resistere alle sfortune e al male, Allah lo aiuta. Nessun vantaggio è maggiore della resistenza alle sfortune. Tra gli elementi che permettono di essere coperti dalla protezione di Allah, gloria a lui, c'è la coscienza risvegliata. Chiunque abbia questa coscienza capisce che Allah, gloria a lui, è con lui dove è in viaggio, è in città, da solo e tra le persone. Nulla sfugge all'oniscenza di Allah, né confidenziale né solenne. Questo è stato il caso di Giuseppe, il profeta di Allah, che la bacia di Allah sia su di lui, dove le porte si sono chiuse e i mezzi di disobbedienza sono stati preparati per lui, ma ha cercato aiuto dal suo Signore di cui sentiva sempre la protezione. La sua lingua diceva, disse, che Allah non voglia e il mio padrone mi ha dato buona accoglienza, gli ingiusti non prospereranno. Questo è esattamente ciò che la moglie di Al-Aziza, cioè il principe dell'Egitto, disse nel nobile Corano. La moglie del principe disse, ormai la verità è in manifesta. Ero io che cercavo di sidurlo. In verità, egli è uno di coloro che dicono il vero. Sentire la protezione divina è il grande atto in cui la paura di Allah prende lo stesso del servo sulla terra, sarà assicuro dalla punizione nell'aldilà. Nel divino Hadith, Allah gloria a lui, dice, Per mia grandezza e per mia gloria non mi riunisco al mio servo né due titoli, né due paure. Chiunque sia rassicurato nella mia punizione nell'aldilà, io causerò paura nell'aldilà e a chiunque abbia paura di me sulla terra, lo rassicurerò nell'aldilà. Siamo sotto la protezione di Allah, gloria a lui, evocandolo, Allah gloria a lui, dice Ricordatevi dunque di me e io mi ricorderò di voi. Siatemi riconoscenti e non renegatemi. Secondo il profeta, bacio e prendezione dall'aldilà, gloria a lui, disse Sono con il mio servo quando crede in me. Sono con lui quando mi evoca. Se mi evoca in sé, io evoco in me stesso. Se mi evoca in un'assemblea, lo evoco in un'assemblea meglio di essa. Detto questo, implora il perdono di Allah sia per me che per voi. L'ode all'Allah, signore dell'universo, che la salvezza e le prendezioni di Allah siano concesse all'onesto profeta, Allah, alla sua famiglia, ai suoi compagni, a tutto ciò che li seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno. Quindi i miei fratelli nell'Islam. La produzione divina ha grandi effetti che il servitore ne raccoglie il frutto sia nella terra che nell'aldilà. Allah dissiva ogni svintura o ogni pregiudizio. Allah, gloria a lui, dice Dicevano loro si sono riuniti contro di voi, temeteli. Ma questo crebbe la loro fede e dissero Allah ci basterà, è il migliore dei protettori. E li concede provvedenza da dove non ne attendeva. Allah basta a chi confida in lui. In verità Allah realizza i suoi intenti. Allah ha stabilito una misura per ogni cosa. E non basta forse Allah e il suo servo? Chiunque ripone la sua fiducia in Allah ed è sicuro e dalla sua sicura sofficienza, il suo nemico non avrà alcuna opportunità su di lui. E i suoi disideri non mancheranno. Quando contempliamo il detto di Allah al suo profeta Musè Ti ho scelto per me e il suo detto al nostro profeta Muhammad sopporta con pazienza il decreto del tuo Signore poiché in verità sei sotto i nostri occhi glorifica e loda il tuo Signore quando ti alzi e avverti le genti e da coloro che credono la lieta novella che la loro sincerità li precede presso il loro Signore. Quindi realizziamo la grandezza della protezione divina, la sua virtù e i suoi buoni effetti. Certamente il vero accesso alla protezione di Allah, gloria a Lui, è la porta supplime della serenità e della tranquillità e della salute psicologica. Aggiungiamo adesso il fatto di allontanarci da tutti gli aspetti di tensione, ansia, difficoltà e delusione. Quanto è preoccupato chi usa i mezzi giusti? Tutto è detenuto da Allah che quando vuole qualcosa gli dice sì, quindi lo è. Allah, gloria a Lui, dice di O Allah, sovrano del regno, tu dai il regno a chi vuoi e lo strabbi da chi vuoi. Esalti chi vuoi e umili chi vuoi. E il bene è nelle tue mani. Tu sei l'onipotente. Allah ha detto anche nel nobile Corano Nessuno può trattenere ciò che Allah concede all'uomini in misericordia e nessuno può concedere ciò che Egli trattiene e Lui l'Eccelso e il Saggio. E il fatto che il servitore senta la protezione di Allah, gloria a Lui e percepisca la grandezza e realizza a Lui e all'intera società i più e più sublimi gradi di bacio interiore con esistenza, bacifica e sicurezza della comunità. Quando i serviti sanno con certezza che non sfogliano allo sguardo di Allah, la gloria a Lui, la loro condotta viene adattata e la loro morale viene riformata. Si impegnano quindi negli ordini di Allah e evitano di commettere ciò che proibisce. usano i mezzi per riformare le loro vite attraverso la loro religione. Pertanto l'individuo vive in pace con se stesso, con la sua famiglia, i suoi vicini, i colleghi, gli amici, la società e il mondo intero. E il messaggio dell'Islam che è una misericordia per tutta l'umanità. O Allah, accettaci sotto la tua protezione, il tuo aiuto, la tua assistenza. O Allah, concedici la tua vasta grazia e i tuoi benefici. Concedici la sincerità in tutti i nostri affari, preserva il nostro paese Egitto e tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto, miei cari fratelli e sorelle nell'Islam. Grazie a tutti. Grazie.